malgrado free and non sia più prodotto da anni sono ancora in tanti a restare affascinati dalla sua semplicità efficacia velocità e versatilità i miei video non vanno visti come un corso completo di free and ma piuttosto sono destinati a chi già conosce almeno le basi del programma sono una serie di tutorial per mostrare come affrontare svariate situazioni nelle numerose aree di applicazione di free and nei video per chiarezza uso soprattutto i comandi da menù ma nella realtà lavoro molto più rapidamente anche grazie al largo utilizzo delle scorciatoie da tastiera che suggerisco vivamente di usare sia nei comandi di menù che nelle azioni dirette